Maria Bresciani che è la portabandiera italiana di questi Trison Game di Firenze e le chiediamo se è emozionata Per me per la portabandiera è la prima volta anche per le gare di scelazione su Trison Game Ecco tu farai... Devo fare l'esperienza che io faccia di nuove per me Farai gare di muoto? Sì Tu sai quali distanze parteciperai? In 4 cento, in 4 cento Ecco e quale aspettative hai per queste gare? Spero di fare maglia di me stessa Senti sei orgogliosa di gareggiare con la maglia dell'Italia? Sì Vuoi fare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti? Sì Ok grazie Prego Grazie 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 a tutti i nostri spettatori